Signore Gesù Cristo, presente nel santissimo sacramento dell'altare, ti adoriamo qui e in tutte le chiese che sono nel mondo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Accendi, oh Maria, la lampada della fede in ogni casa d'Italia e del mondo. Dona ad ogni mamma e ad ogni padre il tuo limpido cuore affinché riempiano la casa della luce e dell'amore di Dio. Fa che in Italia e nel mondo non si spenga mai il canto del Magnificat, ma continui di generazione in generazione attraverso i piccoli e gli umili, i miti, i misericordiosi e i puri di cuore che fidociosamente attendono il ritorno di Gesù, frutto benedetto del tuo seno, oh clemente, oh pia, oh dolce vergine Maria. Amen. Preghiamo i misteri del dolore. Il primo mistero ci porta nell'orto degli ulivi. Gesù prega e soffre fino a sudare sangue perché prende su di sé il peso di tutti i peccati dell'umanità, un peso inimmaginabile e lo affronta con l'onipotenza dell'amore che è la vera forza di Dio. Ma chiede agli apostoli, pregate con me. Gli apostoli si addormentano e Gesù li rimprovera dolcemente dicendo, non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me? Gesù, noi vogliamo vegliare con te. Accanto al tuo infinito amore vogliamo che ci sia una goccia anche del nostro amore. Padre nostro che se ne scegli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli anni. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena straziante della fragellazione, ma i veri fragelli sono i nostri peccati, perché ci fanno del male, ci rovinano e Dio non lo vuole, perché è troppo buono e vuole il nostro bene. Isaia, il profeta, arrivò a dire, i vostri peccati vi rendono panni immondi, panni sporchi, vi rendono come foglie secche, sballottate dal vento. Molti purtroppo non lo capiscono. Padre nostro. Che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatto dalla tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra l'amore e benedetta del frutto del tuo senso, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta del frutto del tuo senso, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta del frutto del tuo senso, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta del frutto del tuo senso, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta del frutto del tuo senso, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta del frutto del tuo senso, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta del frutto del tuo senso, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta del frutto del tuo senso, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta del frutto del tuo senso, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetta del frutto del tuo senso, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Il terzo mistero del dolore ci presenta Gesù coronato di spine. Davanti a Pilato, Gesù con coraggio disse «Io sono Re, ma il mio regno non è di questo mondo». Allora ci sarà un momento in cui apparirà la vera grandezza di Dio, apparirà, e nello stesso tempo apparirà la meschinità di tanti personaggi che oggi vengono incoronati. Verrà l'ora della verità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alle tentazioni, ma liberaci a donare. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i mercatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i mercatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i mercatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i mercatori, adesso è l'ora della nostra morte. e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i mercatori, adesso è l'ora della nostra morte. e benedetto è il frutto del tuo seno, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i mercatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i mercatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i mercatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i mercatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi i mercatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo. O me, nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le amie, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Il quarto mistero del dolore, ci presenta Gesù che viene caricato del pesante legno della croce, e si avvia verso il Calvario, accompagnato dalla sua madre, fedelissima. la fedeltà di una persona si sperimenta, si verifica, nell'ora del dolore. Padre nostro, che sei in Cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come il cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimette a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia del Signore con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia del Signore con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia del Signore con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia del Signore con te, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia del Signore con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia del Signore con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia del Signore con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia del Signore con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia del Signore con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia del Signore con te, tu sei benedetta tra le donne, e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le amme, specialmente le più bisognose, nella tua misericordia. Il quinto mistero del dolore è Gesù crocifisso. E dalla croce, Gesù manda continui segnali di amore. Solo Dio può amare così. Pensate, guardando i Suoi crocifissori, che erano lì ai piedi della croce, e lo sfidavano, Gesù, alla forza di dire, Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. E nella storia, nella storia cristiana, tante volte si è ripetuto il gesto di Gesù, e questa è la grandezza del cristianesimo, Maria Goretti, con le pugnalate nel corpo, arriva a dire, la notte del 5 luglio del 1902, perdono Alessandro, era l'assassino, e voglio che sia con me in paradiso, l'assassino. E Giovanni Paolo II, il 13 maggio del 1981, pieno di sangue, per dei colpi, sparati in piazza a San Pietro, mentre viene portato al gemelli, alla forza di dire, perdono il fratello che mi ha sparato. Questo è il cristianesimo, e inizia dalla croce. Padre nostro che se ne scegli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Tantarci oggi, nostro Padre, che ti chiamano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal mare. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. ame. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Per il Santo Padre Francesco, Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alle tentazioni, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amo. O San Michele Arcangelo, difendisi nella lotta, sii tu il nostro aiuto contro la cattiveria e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di Lui. Preghiamo, supplichevoli, e tuo principe della milizia celeste, con la potenza divina, caccia nell'inferno Satana, e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza, nostra salve. A te ricordiamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, genenti e piangenti, in questa valle di lacrime. O suddumbre, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine Maria. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergine, prega per noi, Madre di Cristo, prega per noi, Madre della Chiesa, prega per noi, Madre della misericordia, prega per noi, Madre della mia grazia, prega per noi, Madre della speranza, prega per noi, Madre purissima, prega per noi, Madre castissima, prega per noi, Madre sempre vergine, prega per noi, Madre impacolata, prega per noi, Madre degna d'amore, prega per noi, Madre ammirabile, prega per noi, Madre del Buon Consiglio, prega per noi, Madre del Creatore, prega per noi, Madre del Salvatore, prega per noi, Madre di misericordia, prega per noi, Vergine prudentissima, prega per noi, Vergine degna di onore, prega per noi, Vergine degna di lode, prega per noi, Vergine potente, prega per noi, Vergine clemente, prega per noi, Vergine fedele, prega per noi, specchio della santità divina, prega per noi, sede della sapienza, prega per noi, causa della nostra letizia, prega per noi, che il Dio dello Spirito Santo, prega per noi, prega per noi, dame il Napolo dell'eterna gloria, prega per noi, dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi, rosa mistica, prega per noi, di noi, torre di Navide, prega per noi, torre d'Avorio, prega per noi, casa d'oro, prega per noi, arca dell'alleanza, prega per noi, Porta del cielo prega per noi, stella del mattino prega per noi, salute degli infermi prega per noi, rifugio dei peccatori prega per noi, confronto dei migranti prega per noi, consulatrice degli affritti prega per noi, aiuto dei cristiani prega per noi, regina degli angeli prega per noi, regina dei patriarchi prega per noi, regina dei profeti prega per noi, regina degli apostoli prega per noi, regina dei marchi prega per noi, regina dei veri cristiani prega per noi, regina dei virgine prega per noi, regina dei santo prega per noi, regina concepita senza peccato originale prega per noi, regina assunta in cielo prega per noi, regina del santo prega per noi, prega per noi, regina della famiglia, prega per noi, regina della pace, prega per noi, regina del cielo e della terra, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Prega per noi, Santa Madre di Dio, pregiamo, infotti la Tua grazia, oh Signore, nei nostri cuori, perché noi che all'annuncio dell'Angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione del Tuo Figlio, seguendo la via della croce ogni giorno, possiamo giungere alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Invoco la benedizione del Signore per voi vicini e anche per tutti i lontani che ci seguono. per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga e vi liberi da ogni male, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Ora la nostra preghiera fiorisca subito in carità. Andate in pace. Vendiamo, grazie a Dio. Vendiamo, grazie a Dio. Vendiamo, grazie a Dio. Vendiamo, grazie a Dio. Vendiamo, grazie a Dio.